Ripercorrere tutti i miei film, è un successo, né te l'aspetti né non te l'aspetti, sinceramente quando fai questo lavoro non è che ci pensi così tanto, fai un film, racconti una storia, speri che piaccia al pubblico, poi alcune ti esplodono in mano e sicuramente non te l'aspetti in alcuni casi, io insomma devo dire da immaturi che è stato un successo completamente inatteso perché venivo da piccoli film, art house, visti da poche persone, in poi mi ritengo estremamente fortunato per comunque il calore, il gradimento che ha avuto il pubblico nei miei confronti e dei tanti aspetti del successo, al di là dell'ego personale o dei premi, insomma la cosa più bella per chi fa questo lavoro è che ti permette di essere libero in qualche modo, se un film va bene i produttori hanno fiducia in te, gli attori, le attrici hanno fiducia in te, il pubblico ha fiducia in te e questo ti permette di raccontare le storie che vuoi per la fiducia che ti danno ed è importante perché non hai alibi quando sei libero, quando puoi fare raccontare la storia che vuoi ti prendi la responsabilità della tua storia ma allo stesso tempo la soddisfazione di poter dire quello che vuoi. In un tempo di social e di video verticali tu hai spesso parlato dell'importanza della cultura cinematografica che parte dalle scuole, che speranza ha il cinema in questo periodo storico? Beh, è sicuramente un momento difficile, io però non drammatizzo perché la difficoltà del momento deriva dal momento di transizione, come tutte le transizioni in qualunque campo sparigliano un po', mischiano un po' le carte, quindi poi bisogna resettarsi rispetto alla novità raggiunta. Negli ultimi anni l'arrivo delle piattaforme, accelerata in maniera importante, ma insomma sarebbe successo comunque dalla pandemia, ha portato un diverso modo di fruire i film. Adesso la parte che vediamo sul nostro divano di casa è diventata importante, il serbatoio a cui possiamo attingere è importantissimo perché il numero di film sono enormi, quindi l'equilibrio è cambiato. La sala cinematografica va in qualche modo riconsiderata, va preso atto che avrà un ruolo assolutamente ridimensionato rispetto al passato, ma questo non deve preoccuparci, non dobbiamo neanche demonizzare le piattaforme, dobbiamo semplicemente ritararsi su questa nuova situazione, secondo me dedicando molte energie però a preservare la sala perché comunque rimane a mio avviso un'esperienza unica, emozionante ed è il modo migliore per poter godere il cento per cento di un film, ma per far capire quanto è importante la sala bisogna far capire quante cose ci sono dentro un film che spesso non entrano dentro un televisore, dai suoni, dalla fotografia, ma anche emotivamente dall'esperienza condivisa, ma anche personalmente dal fatto di regalarci due ore in cui stacchiamo tutto e ci facciamo raccontare una storia, cosa che sul divano di casa non succede e per far capire questa importanza secondo me bisogna partire da una cultura del cinema, se vogliamo anche del teatro, della musica, dalle scuole. Un ragazzo culto, cinematograficamente parlando, probabilmente avrà molta più voglia di andare a vedere un film in sala rispetto a un ragazzo che ignora la storia del cinema, il mondo del cinema, la realizzazione di un film e via dicendo. E l'ultima domanda è c'è un film di cui sei particolarmente fiero e se sì perché? Insomma è difficile come dire vuoi più bene a mamma o papà. Ogni film è veramente un pezzo della tua vita e di ogni film sei particolarmente fiero per diversi motivi. E' banale dire perfetti sconosciuti nel senso che sembrerebbe ovvio però in realtà al di là del successo inaspettato, incredibile, quasi un caso, però quello è venuto dopo. In realtà no, tutti, non tutti, però tanti dei miei film si sono legato nello stesso modo, qualcuno forse meno ecco, al contrario.